Lo sento Cazzo Bella ragazzi qui è Hector e bentornati oggi sul mio canale con un nuovissimo video di FIFA 15 importantissimo raga Odogna Perché guardate la nuova squadra della settimana ci sta Ronaldo Tiffo porca trova Guardate che statistiche raga impressionante Parte subito benissimo poi vabbè tra l'altro ci sta anche Hulk là davanti Come attaccante raga che è enorme E possiamo vedere che c'è anche 91 di tiro Ma che cazzo è? La seconda tira ti spacca in due Ci sta anche Matteo difensore del Barcellona che è pazzesco Matteo di mamma mia che squadrone E come se non bastasse Ibrahimović Mottom Porca C'è raga non bestemmiare con questi giocatori qua è pazzesco Quindi cominciamo subito apriamo il primissimo pacchetto Andremo all'incirca a spacchettare come avete visto 700.000 crediti E tanto io Tanto io non troverò nessuno di questi talenti Ma vi rendete conto di trovare non so Ronaldo Tiffo Ibrahimović Mottom E perché noi immaginatevi Ibrahimović Mottom e Ronaldo Tiffo Avicini la d'orca troia pazzesco E qualche roba Anche giocatori di merda Oh neanche un oro raro Terribile come sempre Terzo pacchetto andiamo Sto andando di caldo Veramente oggi è terribile questi giocatori qua Poi c'è dei bestemmi E' uscito il Gundam nero E mi raccomando ragazzi dovete lasciare subito un bel pollicione Perché se vuole essere un pollicione troviamo o Ronaldo o Ibrahimović C'è una roba assurda Non sta andando affatto bene raga Non stiamo trovando nessuno Nessuno Li mortacci tua Li morta della Roma Ma cool Non gioca dal 1999 mettono call Quando il gioco si fa duro Di dio canguro Ma cazzo l'hai preso In tutti i sensi Non trovo neanche la più sega della squadra della settimana Petro Ma no dai Trovo io il barcellone Petro mandato E il bello che stavo dicendo Non trovo neanche il più pippone della squadra della settimana Figuriamoci se riesco a trovare Quei due bestioni là Questo qua si è mangiato il figlio raga Si è mangiato il figlio questo Raga io non vorrei dire niente Non vorrei anticiparvi nulla Però secondo me oggi siamo strasfigati Siamo stati fortunati per troppi pack opening Per troppi episodi Quindi oggi paghiamo Dazio Avignali Ce l'ho lungo così Oh raga ma mi accontenterei anche di Ciccio Quaresma C'è se proprio devo dirla tutta Cazzo è pieno di aboli Quattro c'ha cinque di skill Porca miseria Quei squadroni che c'è Raga qua ci sta il brazzo Cazzo Guarda che 1000 Che cazzo è sto trovando i lottatori di wrestling Questo è il miglior pacchetto che ho avuto fino adesso Xandao e poi guardate Oh i doppioni Modric e Müller Che sono due giocatori della Madonna E sono anche due doppioni della Madonna Tra l'altro Soprattutto Modric Raga quest'anno Su FIVA veramente Pazzesco Raga e sinceramente non so cosa dirvi Oggi non gira Ma sapete quando fa oggi Oggi non gira Guarda che guarda Mollo Ti mola una scoreggia in faccia Guarda che video Oggi Dai Pure i difensori dell'esis Mi danno Ma cos'è Quando la EA non mi vuole far trovare nessuno Non ci sono né santi Né madonna Che reggiano Oddio Quaresma Ciccio Quaresma Non ci credo Non ci credo Ciccio Ciccio Grande Ciccio L'abbiamo chiamato signori Oh grandi santi Visto appena detta Quaresma Non ci voglio credere Piede debole Quattro ammossa abilità Sto qua rega è uno schillatore della madonna Oddio Anche stavolta torniamo a casa Con qualche giocatore Con un giocatore almeno in forma E non sarà il migliore Perché noi eravamo partiti con Ronaldo E Ibrahimovic Ma dai rega Sti cazzi Quaresma che ne abbiamo chiamate E uscito Adesso lo andrò a provare un attimino in game E il bello è che tutti gli if Che sto trovando Tutti i giocatori in forma C'hanno tutti tipo 4-5 stelle Mosse abilità E quindi mi piace tantissimo Così un po' mi sbizzarrisco Mentre gioco Qua intanto Cioè rega I pacchetti di oggi Sono incommentabili Non ho più soldi Raga ho speso tutto E quindi niente ragazzi Insomma il video di oggi Ormai è giunto al termine Cosa dire Non siamo stati fortunati Non abbiamo trovato Quei due fenomeni Che tanto speravamo Però come sempre Non torniamo a casa A mani di vuoti Perché ciccio Quaresma Siamo riusciti a trovarlo Almeno uno Fatto sta che come sempre Vi vi dite lasciare un piccolo mi piace Un piccolo commento Fatemi sapere Soprattutto voi Che avete trovato Qui sotto E già ve lo dico Se avete trovato O Ronaldo Non ho commentato neanche Perché madonna Vi vengo a prendere No naturalmente scherzo Sarei molto contento per voi E qui da TheSector Tutto Un saluto Un bacione Ciao campioni